Nel 2017 la nomina del Presidente non fu legittima per il mancato rispetto della legge Severino. Il Consiglio di Stato così si è espresso sul controverso caso della nomina di Francesco Macri alla guida di Estra. Secondo i giudici non era trascorso il previsto periodo di raffreddamento di due anni dalle dimissioni da consigliere del Comune di Arezzo, che partecipa a Estra tramite Coingas al CDA e quindi alla presidenza dell'SPA di Gas e Energia, una società sottolinea il Consiglio di Stato di diritto privato a controllo pubblico. I giudici amministrativi di Roma confermano dunque in pieno quanto già deciso dal TAR della Toscana, che aveva respinto il ricorso presentato contro la delibera di Anac, che a fine 2021 dichiarò decaduto il leader locale di Fratelli d'Italia dal suo ruolo alla guida di Estra. Una battaglia legale proseguita poi sino al Consiglio di Stato, che lo scorso 21 agosto ha depositato le motivazioni della sentenza, una decisione quella dei giudici romani che comunque non avrà alcun effetto sul piano della giustizia penale, tutti assolti dall'accusa di abuso d'ufficio e dell'attuale assetto di Estra. La decente nomina di Macri alla presidenza infatti non è mai stata messa in discussione.